Allora prima di tutto saluto i nostri due relatori, d'eccezione questa volta se permettete perché insomma siamo diventati internazionali come potete vedere. Perché noi qua siamo villieri però ci interessiamo pure delle altre nazioni un po' per gioco, un po' per cultura, un po' perché quest'anno cade il centenario della morte di una certa persona, un certo Alexander Gustave Eiffel che tutti conoscono per la sua famosa torre, c'è la torre Eiffel che poi in pratica è diventata il simbolo di Parigi. È nata così solo per essere una struttura in ferro, per essere montata e smontata credo subito dopo per l'esposizione Universale di Parigi del 1889. Ma poi si è capito che tutto sommato doveva rimanere lì perché automaticamente è rimasta a simboleggiare questa grande città che è Parigi e quindi che è la Francia. E chiaramente allora io do il benvenuto alla professoressa Giuliana, al nostro esperto diciamo così di questa costruzione, l'ingegnere, mi correga se sbaglio, Pierre Pegon e do la parola per naturalmente come si fa sempre alle gentili signore quindi do la parola alla professoressa Giuliana, prego. Allora buonasera, mi presento brevemente, appunto mi chiamo Giuliana Cardani, sono professoressa in restauro architettonico nella scuola di architettura del Politecnico di Milano e afferisco ad un dipartimento che è quello di ingegneria civile e ambientale un tempo chiamato ingegneria strutturale e questo aiuta a capire la mia passione dell'architettura più legata alla costruzione storica. In realtà la mia è una passione legata alle murature storiche, agli edifici in muratura storica e alle loro tecniche costruttive che sanno essere anche molto molto diverse e soprattutto legate anche al territorio in cui sono state costruite. Io qui volevo fare solo un'introduzione brevissima all'intervento che sarà praticamente totalmente gestito dall'ingegner Pierre Pegon perché volevo fare un'introduzione sul periodo storico e sulle costruzioni storiche in ferro, in metallo, in acciaio. Soprattutto per dire che nelle costruzioni storiche gli elementi metallici non venivano usati frequentemente perché erano ovviamente materiali costosi e quindi si hanno di solito degli utilizzi nascosti come per esempio come perni, staffe per legare blocchi di pietra, come grappe oppure venivano utilizzati come tiranti, quelle che vengono anche chiamate catene in ferro ma che sono degli elementi metallici che solidarizzavano le pareti degli edifici per garantire loro un comportamento scatolare ed evitare la spinta fuori dal piano, il ribaltamento fuori dal piano delle pareti. E quindi è facile ancora oggi osservare nelle costruzioni storiche questi elementi sotto archi e sotto volte, le volte muratura, proprio perché questi elementi curvi potevano dare delle spinte orizzontali che le murature non erano in grado di sopportare a qualora fossero subentrati ulteriori modifiche. Ne abbiamo degli esempi bellissimi nelle architetture storiche, a volte anche aggiunti ma in alcuni casi anche originali tipo il Duomo di Milano nonostante la sua antica costruzione originale appresenta ancora i suoi tiranti, le sue catene originali in ogni campata in ogni campata. Poi ovviamente sono materiali che quando si danneggiano vanno sostituiti. La cosa interessante è che il metallo quindi veniva usato sempre un po' in modo nascosto, poi dopo nell'Ottocento invece comincia a prendere una certa visibilità sostituendo alcuni elementi architettonici tradizionali, quindi i solai in legno che prevedevano le travi e i travetti in legno, nell'Ottocento vengono via via sostituiti con putrelline o putrelle in ferro vista con i voltini in muratura. Vengono per esempio sostituite le capriate, le strutture delle coperture in legno, quelle triangolari, che garantivano quindi una certa luce libera sotto degli ambienti liberi senza muri di spina, senza colonne e anche queste via via nell'Ottocento venivano sostituite con capriate in ferro, basate anche sulle strutture reticolari, ma di fatto una copia delle capriate anche palladiane. Dopodiché questi elementi metallici cominciano a diventare protagonisti, quindi ci vengono in mente le grandi gallerie urbane che coprivano alcune vie della città con strutture in ferro e vetro, pensiamo alle cupole dalla Galleria Umberto di Napoli alla Galleria Vittorio Emanuele a Milano, grandissima. Quindi vediamo che questa architettura del ferro, che è proprio un'architettura dell'ingegneria, comincia a diventare sempre più importante, apre nuove prospettive, perché sono strutture più leggere delle strutture in muratura, garantisce delle luci coperte più ampie e quindi con possibilità di utilizzo diverse e soprattutto comincia a combinare anche una certa bellezza insieme alla forza. Le strutture riescono ad unire forma e tecnologia sempre di più, quindi non sono solo strutture nascoste di aiuto, ma cominciano ad essere anche belle. Pensiamo proprio che siamo nell'Ottocento, in piena rivoluzione industriale, abbiamo lo sviluppo di industrie, di fabbricati grossi, di capannoni che dovevano appunto avere grandi dimensioni per inserire i grandi macchinari, ma che allo stesso tempo avevano all'interno, anziché dei pilastri semplici, delle colonnine in ghisa, lavorate con dei bei basamenti, scanalate con i capitelli, magari del ferro traforato, un po' il gusto assolutamente eclettico, di richiamo all'architettura classica, ma comunque degli elementi in ferro talmente belli che adesso molte di queste architetture, anche se solo funzionali, sono in realtà patrimonio costruito, rientrano a essere patrimonio vincolato. Alcune strutture in ferro, come alcuni ponti che sono stati assolutamente all'avanguardia e che permettevano di costruire ponti anche sospesi su grandi fiumi, sono diventati anche patrimonio dell'umanità, patrimonio dell'UNESCO. Quindi parliamo di un'architettura in un periodo che si sviluppa in maniera fortissima e soprattutto, e questo è sempre per dare un lancio alla motivazione della Tour Eiffel, che poi ci spiegherà il nostro amico Pierre. Ultima cosa per chiudere è che queste strutture ormai venivano utilizzate per ponti, per viadotti, per grandi strutture, grandi anche grattacieli, perché in America cominciano ad essere utilizzate anche per strutture molto alte. Ma la manifestazione più importante che vuole rappresentare questo tipo di architettura si ha anche nelle esposizioni universali. Stiamo parlando proprio dell'Ottocento, dove inizia questa rassegna di presentazione delle nuove tecnologie e queste esposizioni universali diventano proprio un manifesto della cultura positivistica che vuole associare il processo e il progresso dell'industria, dell'industrializzazione e anche del commercio, perché alla fine era un metodo che serviva a produrre a basso costo tantissimi prodotti che sarebbero poi serviti di fatto alla popolazione. Quindi cercava di unire il progresso industriale e il commercio all'intera umanità. E quindi più che mai queste esposizioni universali che rappresentavano tutto il mondo manifestavano questa potenza nuovissima data anche dalla tecnologia che vivì avanzava come anche l'arrivo dell'elettricità, della corrente elettrica. Quindi ecco perché secondo me è molto bello quello che racconterà l'ingegner Pegon perché fa capire il motivo di questa costruzione e anche perché poi è rimasta il simbolo di una città e di una nazione intera. Ecco io mi fermo qui perché non voglio rubare tempo all'ingegner Pegon, spero che sia stato tutto chiaro, poi comunque alla fine restiamo disponibili per le domande. Bene, allora diamo la parola all'ingegner Pegon e una breve presentazione e poi si avventuri proprio nel personaggio. Allora, buonasera a tutti. Io, diciamo, sono un pensionato. Ho lavorato fino all'anno scorso al Centro Comune di Ricerca di Ispra. Sono stato anche responsabile di un grande laboratorio di prove sismiche. Ho fatto tanta modellazione nella mia vita. Sono nato a Parigi e come bambino, come adolescente, come giovane uomo non ero molto interessato alla Torre Eiffel. Per me faceva totalmente parte dei muri. Non era una cosa curiosa. Poi una volta sono andato a Trento per vedere delle tesi e ho visto una tesi sui punti e bulonati dell'inizio del Novecento. e la persona che faceva la presentazione mi ha detto alla fine ma sai che la struttura rivettata la più grande del mondo si trova a Parigi e si chiama la Torre Eiffel. e per me è stata come un'illuminazione e da quel momento lì mi sono interessato sempre di più a questo edificio e dunque spero adesso di condividere con voi tutte le cose che ho imparato. dunque adesso faccio una condivisione del mio schermo se mi permettete e vediamo come funziona eccoci sei allora vi consiglio di mettere tutto in grande schermo e di fare il più piccolo possibile eccolo benissimo stai sul grande schermo ok allora vedete bene dunque mi sentite? dovete dirmi allora io ho cercato di basare la mia presentazione esclusivamente su documenti d'epoca dunque vedrete tanti grafici, foto e tutto quanto dell'epoca della Torre Eiffel perché siamo anche nell'epoca dell'inizio della fotografia e quando Eiffel ha costruito la sua Torre c'erano già fotografi professionali dunque è molto interessante di vedere che è stato tutto documentato non solamente attraverso cose scritte ma anche attraverso tante fotografie perché sicuramente era scenico la Torre Eiffel allora la mia presentazione è molto lunga dunque cerco di andare il più veloce possibile volevo parlarvi del contesto della Torre delle origini, del suo design, della sua costruzione come è stato organizzato il cantiere per fare una costruzione così veloce e poi un brevissimo epilogo dunque il contesto della Torre direi che la Torre non nasce per caso nasce da un contesto Giuliano ha cominciato a parlarne un po' parlando delle grandi costruzioni metalliche ma c'è una convergenza di circostanze che hanno fatto questa storia allora la Francia dell'Ottocento è un paese che ha avuto tanti problemi perché ci sono stati due imperatori, tre re, due repubbliche e tre rivoluzioni tutto prima del 1889 e la terza repubblica che è quella dell'epoca è nata dopo una guerra persa contro i tedeschi è una rivoluzione repressa nel sangue molto molto violenta c'è una regina maggioranza repubblicana solo dal 79 e poi c'è una grande instabilità nei governi che direi che tanti paesi hanno conosciuto questo nelle loro repubbliche per esempio ci sono stati sette governi solo in quattro anni prima dell'esposizione dell'89 dunque il paese ha veramente bisogno la repubblica ha veramente bisogno di storie di successo e di simboli forti per dire recuperare diciamo il suo orgoglio nazionale poi perché la torre fa 300 metri perché non fa 300 metri per finire fa più mille piedi e lì c'è una come dire una competizione direi nell'immaginario dell'epoca c'è come superare a mille piedi nel 32 c'è stato un primo progetto che si chiama il Monumento per Reform Act che è stato proposto nel 32 da Richard Redville che è già una torre molto alta che fa 30 metri di diametro alla base che è fatto di 1500 piastre di Giza e che ha un ascensore e il problema di questa struttura è che Richard è morto l'anno successivo e non ha potuto portare il suo progetto e vedrete su tutte le illustrazioni che seguono che il monumento di 300 piedi di 300 metri è sempre avvicinato ai disegni delle strutture le più alte del mondo a quell'epoca poi dopo c'è stato un progetto molto curioso e poco conosciuto che è il riutilizzo del Crystal Palace cos'è questo Crystal Palace? è una struttura modulare che è stata costruita per la prima esposizione universale che è avvenuta a Londra nel 51 e l'idea è di riusare i moduli per fare una struttura di 300 metri allora come funziona questo? funziona se si guarda la base e tutti questi elementi si possono combinare in un modo leggermente diverso e far crescere la struttura dalla base fino alla parte la più alta allora era un progetto un po' di pura architettura e senza base ingegneristica molto forte in particolare probabilmente non poteva tenere il suo peso dunque chiaramente non ha avuto un grande successo ma l'idea dei mille piedi è andata avanti e c'è stato un progetto che per l'esposizione universale del 76 a Filadelfia che è stata organizzata per festeggiare il centesimo dell'inizio degli Stati Uniti della Revoluzione dunque è un progetto di ingegnere e una ditta privata e pensavano di impilare un sistema che si chiamava colonna Fenix e sono elementi prefabbricati che si possono fissare uno sull'altro e poi ci sarebbero stati dei cavi per mantenere questa colonna in alto allora ci sarebbero stati quattro ascensori dentro e poi una scala e poi varie piattaforme per osservare l'esposizione e faremo direi per esserci questo non è stato fatto perché sembra che per ragione finanziaria e poi abbiamo nell'89 abbiamo la Tour Eiffel dunque è sempre con questo peisaggio di edifici più alti dell'epoca e poi questa è un'altra rappresentazione più nel spirito dell'epoca dunque abbiamo anche l'esposizione universale dunque abbiamo parlato di due esposizioni universali quella di Londra e quella di Philadelphia ma alla fine ci sono state nove esposizioni universali prima di quella dell'89 quattro di queste esposizioni beh tre prima quella dell'89 sono avvenute a Parigi e direi a partire della seconda sempre in un posto di Parigi che si chiama il Champ de Mars quella dell'89 chiaramente sarà anche fatta nel Champ de Mars che viene visualizzato qui l'idea di fare un'esposizione universale nell'89 è un'idea lanciata dal presidente Gilles Ferri nel 78 e una commemorazione della rivoluzione che è avvenuta cento anni prima dunque è stata adottata ufficialmente in novembre 84 per una durata più o meno di 6-7 mesi ma c'è un problema la Francia è una repubblica circondata da monarchie e fare un'esposizione universale che commemora una rivoluzione che ha tagliato la testa del re non era molto popolare e di fatto la mostra fu boicottata da quasi tutti i paesi circondando la Francia ma ci sono stati molti industriali artisti che hanno partecipato all'esposizione in veste più o meno direi semi private o semi ufficiali potete dirlo nel modo che volete ma l'idea visto che l'idea della commemorazione era antecedente a novembre del 84 la torre lei è nata il 24 giugno del 84 come lo vedrai poi abbiamo un certo Gustav Eiffel dunque come è stato detto è nato Bonnixhausen la sua famiglia viene emigrata dalla Germania all'inizio del secolo è installata a Parigi poi un ramo è andato a Dijone e come l'avete visto non era molto molto buono di avere un nome a consonanza tedesca dunque Gustav è diventato Gustav Eiffel ufficialmente il 15 dicembre dell'80 era più facile per lui per fare affari dunque lui è laureato di una scuola un po' particolare che si chiama l'Eco Central des Arts e Manufactures di Parigi che è una scuola che ha sempre dei contatti molto forti tra gli ex alunni della scuola e lui aveva una specializzazione in chimica perché doveva lavorare nella dita di uno zio e poi non è andato così e lui ha lavorato quasi da subito per una compagnia che si occupa di opere ferroviale e a partire del 1966 acquistò una dita di costruzione metallica che si trova all'Ovaluapere e da quel momento lì ha costruito numerosi punti edifici metallici in tutto il mondo ci sono ancora tanti in giro e poi ha già contribuito direi è una persona molto introdotta perché ha già contribuito attraverso edifici all'esposizione universale del 66 e del 78 poi abbiamo come diceva Giuliana questa seconda parte del secolo vede la costruzione di grandi strutture metalliche che non era possibile di farlo in un altro modo anche se il metallo è un po' costoso alla fine è molto leggero per esempio c'è stato questo ponte Maria Pia a Porto che tuttora esiste è stato inaugurato alla fine del 78 che ha veramente dato uno slum show a Eiffel nelle sue realizzazioni ulteriori dunque è stato costruito senza supporto per la struttura e dunque dovete vedere che direi lui era abituato a fare delle strutture in un tempo abbastanza breve e lavorando in un modo molto minuto minuzioso per essere sicuro che tutto poteva funzionare ma non solo ponti ma anche strutture come la stazione ovest di Budapest che anche lei esiste ancora adesso è completamente immerso nella città e sempre inaugurata nella stessa epoca poi non ci sono sempre stati successi per esempio un ponte molto meno ambizioso come questo viadotto su fiume Tard direi durante la sua costruzione direi all'inizio dell'84 ha avuto problemi molto severi dovuto una tempesta dunque la struttura durante la costruzione è caduta e questo anche se la struttura era stata disegnata per resistere al vento non era disegnata per resistere al vento durante la sua costruzione e secondo me questo è stata una grande lezione per Eiffel che nella parte successiva della sua carriera è sempre stato estremamente attento a questi aspetti dunque questo è avvenuto durante la notte dunque non ci sono stati periti nemoti e poi abbiamo come ultima possibilità la statica grafica che era un'arte nuova nel 1800 per determinare le forze applicate in ogni elemento di una struttura articolare e dunque permette di dimensionare questi elementi contro limite di sforzi può essere anche utilizzata per determinare gli spostamenti e è stata applicata direttamente sistematicamente dalla fine degli anni 80 dalle officine Eiffel dunque direi in principio permette di progettare una struttura metallica di qualsiasi dimensione di di l'info Lui aveva studiato con uno dei fondatori Kuhlmann della statica grafica e l'ha portato alla ditta di Eiffel. Per esempio, lui ha disegnato dei ponti prima di lavorare sul disegno dell'autore Eiffel. Quella notte lì ha fatto uno schizzo che si trova a Zorigo adesso, dove era un pilone alto 300 metri per la città di Paris-1989. Lui ha fatto questo progetto con un altro ingegnere che si chiama Emil Nouguet, che lavorava ad Eiffel da più di dieci anni, che era anche lui un specialista dei disegni, ma più nel modo applicativo. E dunque tutti e due hanno non solamente presentato questo disegno, ma anche una relazione sommaria di calcolo e metratura, dove c'è già la determinazione delle superfici esposte al vento, la resistenza che deve dare al vento e poi dei carichi dovuto ai pesi. E poi c'è questa cosa meravigliosa. Tutti questi elementi funzionano l'uno dall'altro e i calcoli dovranno essere quindi eseguiti simultaneamente e io aggiungerei interattivamente. Allora, su questo progetto c'è qualcosa di... Dunque questo è un esempio di statica grafica. Allora, non vado né particolare, ma l'idea dietro questa torre è che la forma curva dei montanti permette di evitare dei controventi, perché le forze che risultano dal vento a ogni altezza alla fine si interseccano con l'asse, un'intersezione di montanti. E questo vuol dire che non c'è bisogno di un elemento, di un controvento per prendere il taglio. E dunque si può dire che alla fine è la forma della torre Eiffel che permette a questa struttura di resistere al vento e tutto il resto è fatto per anche resistere al carico verticale. Dunque loro hanno intentato un modo di costruire che avrebbe potuto permettere di fare una torre anche più alta. Ma a quel momento lì, quando questi due ingegneri lo presentano a Eiffel, lui non è entusiasta, probabilmente perché la struttura non è un binettivo. Allora, Keschlin e Nubier si mettono in contatto con un architetto che si chiama Stefan Sovest, che lavora anche per Eiffel e che è con l'incarico di migliorare l'aspetto del pilone per farlo diventare un attore. Allora, nello spirito del tempo, Sovest aggiunge dei chiami coperti, aggiunge degli archi, anche dei zoccoli alla base e poi un campanile in cima. E basato su questo, direi, sembra che Eiffel, che sapeva anche che l'esposizione universale stava per essere ufficialmente, direi, decisa, si comincia a interessarsi all'attore. Allora, prima mossa, c'è stato un brevetto presentato in settembre dell'84 da Eiffel, Nubier e Keschlin, dunque Eiffel entra nominalmente dentro, a proposito di una nuova disposizione per la costruzione di pile e piloni oltre a 300 metri di altezza. Lì si vede che si vede già qualcosa che si assomiglia molto di più all'attore Eiffel, anche nei suoi dettagli. E poi, questo brevetto, Eiffel compra la proprietà esclusiva del brevetto ai suoi due colleghi, il 12 dicembre dell'84, contro una promessa finanziaria e la promessa anche di citare sempre Nubier e Keschlin ogni volta che parlerebbe della torre di 300 metri, che non si chiamava ancora la torre Eiffel. Poi, a quel momento lì, direi Eiffel, sapeva già, direi, faceva pubblicità. Dunque, lui fa diverse mosse per far conoscere il suo progetto. Per esempio, c'è una presentazione della torre in occasione dell'esposizione annuale delle arti dicoleattive. E lì si vede che c'è sempre un monumento commemorativo per l'esposizione universale, presentato da Gustave Eiffel, che è un progetto fatto da altri, e poi che avrebbe diverse applicazioni. Dunque, osservatorio meteorologico, posto di osservazione strategica, vedremo che una cosa del genere assicurerà il futuro della torre Eiffel. Un faro per l'illuminazione elettrica. Questo si riferisce a un progetto concorrente che vedremo dopo. E poi già un aspetto per il pubblico, che è di poter salire a 300 metri di altezza, che questo sicuramente non era una cosa da male per l'epoca. Poi, lui, anche lentamente, questo va dentro i giornali. All'epoca, come lo immaginate, non c'era TV, non c'era radio. La prima emissione di radio è stata emessa dalla torre Eiffel negli anni 24, e mi sembra la TV verso gli anni 50. Dunque, all'epoca, le riviste e i giornali erano molto importanti. Dunque, la prima menzione della torre sulla Santa è nel Figaro. Poi ci sono due riviste più scientifiche che ne parlano. E poi, dopo, alla fine dell'84, all'inizio dell'85, due giornali veramente a pubblicazione larga. Tutte queste persone sono degli amici di Gustave Eiffel, sono delle conoscenze, e lui ha insistito, ha dato a loro tutta l'informazione per poter fare delle pubblicazioni che hanno marcato il pubblico. Ma la torre Eiffel aveva dei concorrenti. Dunque, ci sono state discussioni molto accese nell'anno 85 tra diversi grandi progetti che sono stati presentati davanti a delle organizzazioni di costruzione civile, eccetera. Uno è la colonna sole di Sebillo e Burde, e l'altro è la Tuef. Allora, cos'è questa colonna sole? Allora, la colonna sole si chiama così perché a me de Sebillo aveva visto negli Stati Uniti nei pochi anni prima dell'81 dire questo progetto di illuminare una città con un faro e dunque era un'idea molto positivista con un unico faro elettrico di poter illuminare una città. Ci sono stati progetti a piccola scala negli Stati Uniti e lui ha portato questa idea e voleva illuminare tutto Parigi con un faro. Dunque si associa con Jules Burde che lui era l'architetto, che era una persona molto conosciuta, il grande rappresentante di architetti in Francia dell'epoca e quello che ha concepito il Trocadero, non quello che conoscete adesso, ma il palazzo, vedremo delle foto dell'epoca. E lui era anche molto introdotto con i poteri politici. Dunque lui presenta questo dicendo che la sua torre poteva andare fino a 360 metri, era un'architettura molto classica, molto più bella che una possibile torre in ferro e poi lui pretendeva che il granito era molto più nobile e molto meno costoso del ferro, a un fattore 1 a 7,5. Dunque l'unica cosa che lui non diceva è che ci voleva molto meno ferro che il granito per costruire una torre così. Dunque abbiamo, d'altro canto, questo vi dà l'idea dell'ampiezza della base della sua colonna sole rispetto alla base della tour Eiffel come la conosciamo adesso. Dunque era un edificio abbastanza grande, dell'assizio. Dunque dall'altro lato Eiffel lui comincia la sua presentazione davanti dunque a un comitato scientifico parlando dell'obelisco del monumento di Washington a Washington DC. Dunque quel monumento inizialmente doveva fare 183 metri e poi alla fine ne ha fatto solo 170 e ha avuto problemi di fondazione durante la sua costruzione notevoli. Hanno dovuto rifare le fondazioni quando la struttura era alta una cinquantina di metri. E' un progetto che è stato molto sofferto, costruito in due periodi. Dunque è un arco di tempo che è molto lungo, parliamo di una decina di anni. Dunque Eiffel punta sul fatto, dunque il problema delle fondazioni, il ribaltamento della struttura e lunghezza della costruzione. E poi lui parla chiaramente, fa anche come al solito, direi una relazione un po' più scientifica dove lui mostra le superfici esposte al vento, fa diagrammi di momenti per differenti condizioni di vento. Dunque un vento uniforme a 300 kg per metro quadro, che è equivalente più o meno a 242 km per ora, che sono veramente dei venti molto forti. O anche con un profilo che varia tra una certa velocità e un'altra. E direi, alla fine lui dimostra che la sua struttura non potrà ribaltarsi. E questo, insieme al fatto che Eiffel era capace di costruire delle strutture in un tempo molto corto, ha sicuramente fatto dare a lui il supporto di un personaggio che si chiama Eduard Locroy, che è stato ministro dell'industria e poi sarà il commissario dell'esposizione universale. Dunque sicuramente da quel momento Locroy pensa che Eiffel sarà il suo candidato. Allora, cosa si fa dopo? Dunque non si può scegliere direttamente per Eiffel, e dunque c'è l'organizzazione di un concorso. Quel concorso è pubblicato il primo maggio dell'86 e dunque ci sono vari articoli e poi uno dei articoli dice che i concorrenti devono studiare la possibilità di avere nel campo di marzo una torre di ferie di base quadrata di 125 metri di lunghezza alla base e di 300 metri di altezza. Esattamente la torre. poi, ecco, la consegna dei progetti doveva essere fatta 17 giorni dopo, voi immaginate. E i progetti dovevano essere complessivi dunque per tutta l'esposizione universale. E dunque ci sono comunque state 107 proposte, quella lì per esempio è la proposta di Solvestre Fein. E poi dopo, a breve tempo dopo, ci sono stati dei premi. Dunque l'idea era di premiare diverse persone per diverse parti del loro progetto. Dunque, per esempio, ci sono stati tre progetti premiati in prima linea. Dunque il primo è uno di Jean-Cami Formiget che ha avuto la costruzione del Palazzo degli Arti Liberati. Poi un altro per avere la galleria delle macchine e Eiffel non è arrivato primo arrivato, terzo, ma lui si adjudica alla costruzione della torre di 300 metri. Poi ci sono stati premiati, dunque, scusatemi, ci sono state critiche al progetto. Uno sull'isolamento elettrico della torre e un altro sulla sicurezza degli ascensori. E poi abbiamo anche dei progetti premiati in seconda linea e uno è assolutamente bellissimo, quello di Joseph Cassien e Bernard e Francis Nasson che era un attore che cavalcava il fiume Sen. A me è molto bello, anche se è possibilmente difficile da costruire nei tempi dati, ma direi era un'idea molto originale. Dunque, la storia Eiffel perché? Perché Gustave Eiffel da quel momento lì diventa letteralmente centrale, perché è lui che ha firmato un accordo tripartito con lo Stato e la città di Parigi per fare la costruzione. Poi è lui che ha avuto contatto con le banche per avere finanziamento. È lui il proprietario dell'atelier di Lovallua e il capo di opera che fanno la costruzione della torre. È lui che ha lanciato la società della Torre Eiffel che si occuperà dell'esercizio della Torre e di disfrutarla dopo l'esposizione universale. E poi lo Stato e la città di Parigi loro due si sono anche hanno litigato per sapere dove sarebbe costruita la Torre. Allora perché? Allora parliamo prima dell'accordo tripartito dunque è fatto tra Locroi Pubelle che era il prefetto di Parigi e Eiffel e dunque all'articolo 7 vediamo che ci sarà un premio di 1 milione e 500 franchi poi c'è anche i diretti di esercizio per vent'anni perché chiaramente l'attore costerà molto di più e dunque Eiffel dovrà mettere dei soldi e direi un cambio avrà avrà il diritto di sfruttare l'attore a suo piacere per vent'anni a partire del primo gennaio del 90 dunque l'attore quando è stata costruita era una struttura temporanea ma temporanea dopo vent'anni dunque aveva già una durata di vent'anni più o meno afficurata se poteva essere costruita e poi l'articolo 10 viene detto ma questo è per sorridere che c'era tutti i dipendenti di Eiffel avrebbero avuto un ingresso graduito all'esposizione dunque è stata una discussione acera dunque questo per esempio è una pagina dove si vede Eiffel che dice no 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 ai diversi articoli hanno messo quasi cinque mesi per firmare l'accordo tripartito poi la sua collocazione allora c'era una lotta tra la città di Parigi e lo Stato perché perché in 1886 il Jean de Marse era a metà era in gran parte posseduto dallo Stato ma una piccola parte era già di proprietà della città di Parigi e il problema è che lo Stato non era capace all'epoca di concedere concessioni dunque la torre doveva essere fatta nel direi nella parte che apparteneva a Parigi ma era finanziato da un progetto d'esposizione universale non era della città di Parigi ma era dallo Stato dunque lì hanno dovuto mettersi d'accordo dunque alla fine la torre si trova lì il più vicino possibile della parte dello Stato ma comunque nella parte della città di Parigi che si vede qua allora a livello del finanziamento direi ci sono questo 1.500 franchi pagati dallo Stato dunque un franco dell'epoca valeva più o meno 4 euro di adesso poi il costo stimato invece era di più o meno 6.500 dunque bisognava trovare i soldi per il resto dunque 5 milioni sono stati presi in prestito da tre banche ma l'accordo viene sigillato solamente il 3 settembre dell'88 quindi in pratica Eiffel anticipa una grande parte dei fondi visto che la costruzione è iniziata in gennaio dell'87 quel capitale fu interamente imborsato alla fine dell'esposizione universale come lo vedremo ma la torre ha costato di più e dunque la differenza di soldi Eiffel l'ha pagato e poi è stato imborsato dell'esercizio di utili di esercizio della torre negli anni successivi dunque voi non dovete meravigliarvi di questi numeri così precisi questo è nello spirito di Eiffel lui ha dato il peso dell'attore quasi al chilogramma dunque era una sua mania dunque a inizio già della costruzione dell'attore c'è questa protestazione dei artisti che è stata molto famosa all'epoca sempre nel giornale Il Tempo dunque dove si dice che che conclude che per vent'anni vedremo diffondersi sulla città come una macchia d'incostro l'orribile ombra dell'odiosa corona metallica in Boulogne e nello stesso nello stesso giornale c'è una risposta di Eiffel che secondo me è molto bella e lui dice penso che la mia torre sarà bellissima siccome siamo ingegneri pensate che noi non ci preoccupiamo della bellezza dei nostri edifici e poi questa frase fantastica non sono forse le vere condizioni della forza sempre conformi alle segrete condizioni dell'armonia dunque diciamo come ingegnere che ha sempre preferito un cubo o qualcosa di curvo penso che è molto bello che all'epoca di Eiffel d'un ingegnere si poteva avere delle formulazioni così forti allora per finire c'è finire questa parte dell'origine perché come è stato disegnato la torre per parlarne bisogna parlare del seropudelato allora questo è una prima approssimazione dell'acciaio dunque il pudelaggio è la trasformazione di guisa in acciaio dove si cerca di diminuire nella guisa la proporzione di forzoro di silizio di manganese e soprattutto di carbonio è un processo abbastanza complicato che richiede che richiede fusione ribollimento giri di ferro e alla fine grume martellate e si fa in condizioni di lavoro assolutamente terribili ma questo questo ferro era molto più si direi era d'utile aveva una certa resistenza al carico sicuramente niente rispetto a acciaio direi di adesso ma era l'ultima l'ultima cosa disponibile nel 1800 a quest'epoca e dunque tutto il disegno della torre è stata fatta con questo coefficiente di lavoro di 6 kg al millimetro quadro che era dato come una regola di design per il ferro pudelato e qui vedete che i feri della torre perché questi sono stati esperimenti fatti sui feri della torre chiaramente potevano subire delle forze molto più alte dunque c'è già stato un sovradimensionato consistente della torre che puoi spiegare perché tiene ancora così bene adesso dunque la torre direi visto da lontano è fatta da quattro pilastri 25 vediamo dal momento ma come sotto all'avis prego vai avanti vai avanti dunque è fatto da questi quattro pilastri che si congiungono ma ogni pilastro è fatto al suo torno di pannelli e questi pannelli di parte che hanno dei montanti di spigolo quattro montanti di spigolo che ne fa una struttura cassone e poi ogni montanti al suo tono è fatto da parti più piccole che sono assemblate una all'altra eccetera eccetera dunque se si va sempre nei dettagli si vede che alla fine qui è un dettaglio delle sezioni è fatto da piccoli pezzi che sono dei profili dunque si vede questi profili che vedremo dopo sono imbulanti che sono rivettati uno all'altro dunque la parte bassa della torre ha quattro piedi e ogni piede ha i suoi quattro piloni che hanno al loro turno questi montanti di spigolo poi più in alto sparisce quello più vicino al centro e poi ancora più in alto ci sono questi montanti di faccia che spariscono o direi si coniungono uno all'altro per avere la parte alta della struttura questo è un piccolo disegno che vi parla del peso della torre allora io vi ho detto che finalmente la torre è abbastanza leggera e perché dico questo dunque c'è questo piccolo disegno dove viene riportato che la parte di ferro è di 7000 tonnellate e è stato più o meno di questo di questa ampiezza ma viene detto che è attrezzata fra 8500 tonnellate è vero se si parla di tutte le strutture diciamo di ferro e di ghisa ma la torre è più vicino a 10000 tonnellate e poi c'è il peso dell'aria del cilindro che contiene la torre è di 9000 tonnellate dunque è molto vicino al peso della torre dunque è qualcosa di interessante di pensare e poi questo peso di 10000 tonnellate fa una sollicitazione e appoggi che è di 3,28 chilogrammi al centimetro quadro dunque questo direi l'appoggio della torre visto come è stato disegnato sono state disegnate le fondazioni è molto bassa e questo anche vi fa capire che la torre non affonda per niente nel terreno dunque la statica grafica è stata usata per stabilire i carichi del vento carichi del peso e poi i sforzi ne montanti e dunque anche direi che viene rappresentato in un mondo grafico non vedo nei dettagli e così possiamo andare sulla costruzione della torre allora la torre è un cantiere la costruzione si è fatta su due anni due mesi cinque giorni dunque è stata la costruzione è stata iniziata il 26 gennaio dell'87 e fino al 31 marzo sono state construite le fondazioni poi qui vedete c'è un grafico che vi dà un'idea della quantità di metallo rispetto cumulato rispetto al tempo di costruzione è una curva che è quasi lineare dunque all'inizio la torre crescerà molto lentamente e più andrà verso l'alto più crescerà rapidamente c'è una serie di foto di Teo e Filfo presi dal Trocadero che vi dà una buona idea della costruzione dunque qui vedete in rosso il tempo al quale è stata presa la fondazione la foto poi in agosto poi a settembre dunque lì si comincia a vedere la parte bassa della torre poi ottobre poi novembre dicembre che è più o meno il momento dove cominciano la costruzione della della prima piattaforma poi a marzo aprile si avvicina lentamente a giugno alla seconda secondo livello 10 luglio comincia la costruzione del secondo piano e poi c'è il primo poco d'artificio tirato dalla Torre il 14 di luglio 1988 e poi continua la costruzione dunque vedete che più andiamo avanti più va veloce fino al 2 aprile del 89 dunque la torre in modo visivo sembra di essere completata e dunque è stata inaugurata il 31 marzo dell'89 dunque ci sono persone che sono salite urlando le scale fino alla cima della torre per mettere la bandiera francese ma non c'è ancora del lavoro da fare dunque ridettatura poi sistemazione di piani e di ascensori poi l'expo sarà aperta come avevo detto il 6 maggio ma la torre solamente il 15 maggio perché le scale del primo e il secondo piano sono state aperte completamente a quel momento lì il primo ascensore è stato in funzione verso il primo piano il 27 maggio poi verso il secondo piano il primo il 4 giugno l'altro il 22 giugno e solamente il 15 giugno l'ascensore fino al terzo piano dunque gli ascensori sono un po' rimasti indietro allora la torre ha avuto un piccolo problema per le sue fondazioni allora questa è una piantina di Parigi nell'89 dove si vede il Chant de Mars ma negli anni diciamo nel 1730 il futuro Chant de Mars si trova qui dunque se facciamo un zoom si vede che la Sen aveva un braccio che nell'89 non esiste più questo è il vecchio percorso della Sen messo sulla piantina di Parigi dell'89 e lì vedete quel braccio della Sen che rende la costruzione un po' complicata perché si vede che due pile sono molto vicino a questo vecchio bacio allora dov'è il problema allora il problema viene illustrato qui dunque avete le pile le pile 2 e 3 sono le più lontane del fiume e le pile 1 e 4 sono quelle più vicine dunque se si guarda una una sezione del suolo si vede prima direi 6-7 metri di 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 un terreno che 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 è stato usato per un terapieno dunque un terreno che 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 è fatto di cose che sono completamente improprie per supportare la torre la torre dunque la torre dovrà appoggiarsi sotto sicuramente ma sotto c'è un altro terreno che che nasce dalla storia del 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 braccio dunque anche un terreno spongioso che non può resistere a alcun peso e poi sotto solamente si trova un terreno su quale si può costruire una fondazione dunque questo vuol dire che la pila 2 e 3 possono essere costruite quasi direi senza lavorare sotto il livello della sen invece per le pile 1 e 4 si deve andare sotto il livello del film dunque si dovrà lavorare sotto acqua sostanzialmente allora prima ci sono dei scavi e poi dopo si comincia dopo aver tirato via quel terreno di terapiano si deve andare sotto questo livello usando di cassone aria comprensa allora come funzionano questi cassoni qui c'è la rappresentazione del terreno che è un po' diciamo poroso pieno di acqua dunque si vede che si può costruire un cassone che è assemblato in superficie poi parzialmente può cominciare l'affondo all'aria aperta e poi a partire di un certo momento deve funzionare l'aria comprensa per tirare l'aria nella parte bassa del cassone per finalmente affondersi e appoggiarsi sul terreno solido allora questa è una sezione di un cassone dunque gli operai lavorano sotto e scavano dunque il materiale viene portato in alto e poi viene messo nel cassone dunque sostanzialmente si prende il terreno sotto poi si mette sopra quel cassone pesa sempre di più e poi quando qui viene dell'acqua allora viene pressurizzato per tirare via l'acqua e dunque si può continuare a lavorare e così hanno dovuto lavorare per affondare il cassone più o meno su 6-7 metri allora questo vi dà un'idea del cassone assemblato in superficie poi questo è una parte dell'affondamento iniziato all'aria aperta poi qui siamo sulla parte di affondamento con l'aria compressa e questo è il cassone completamente affondato e sopra di questo comincia la costruzione delle murature che supportano la torre come lo vediamo sulla su questa illustrazione e su questa foto dunque questi sono i supporti in muratura quindi questi supporti metallici che erano dentro ne parliamo dopo poi questo è un'altra vista e poi vedete qui ci sono dei tubi e questi tubi sono tubi di grisa che saranno usati per la messa a terra della torre perché questi tubi alla fine andranno sotto il livello dell'acqua ci sarà una lunghezza di 18 metri sotto il livello dell'acqua e poi questi tubi dopo saranno connessi alla parte metallica perché come immaginate è un parafulmine su scala molto larga e sono fulmine che sono ascendenti non sono descendenti e sono abbastanza rari ma quando avvengono sono abbastanza brutti poi un secondo momento clou è stata la costruzione verso il primo piano dunque una volta fatto il primo piano si può immaginare la parte bassa della torre come un sgabello molto stabile e sulla quale potremo sedere il resto della struttura ma questa struttura direi il pavimento del primo piano è più o meno a 50 metri prima della connessione che fa il primo piano i pilastri sono costruiti a sbalzo e poi dovete immaginare che si può essere un errore nell'altezza delle fondazioni che vi ricordo sono distanti più o meno da 100 metri uno dall'altro e questo fa che un errore fa che un errore di orizzontalità fa che la parte alta di uno può essere non allineata con la parte alta dell'altra poi i pilastri sono costruiti con una certa angolazione e di nuovo errori di angolazione possono fare che le 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 non si non si intersecano più nell'asse della torre questo vale nel piano verticale come vale nel piano orizzontale allora tutti questi eroi che che sono quasi inevitabili fanno che potrebbe essere un grosso problema nel collegamento delle trave orizzontali del primo piano Allora, come è stato risolto questo problema? Lo vediamo. Allora, prima per pilastri costruiti a basso e primo piano ci saranno dei punteggi portanti e poi la parte bassa di ogni pilastro la potete vedere come uno snodo che può anche muoversi verticalmente in tal modo che si può aggiustare più o meno le direzioni e l'altezza di ogni pilastro indipendentemente da come si fa tutto questo. Ve lo dico, ma si vede che il progetto di basamento dell'85 era un basamento rigido, ma nel frattempo hanno capito che errori ci sono e dunque bisognava anticipare errori piuttosto che di correggere una volta che non sarebbe stato possibile. Allora, hanno immaginato un basamento che si è articolato. Allora, vi ricordate questi pezzi di ferro che abbiamo visto nella muratura? Allora, sono due travi di ferro penso 10 o 12 centimetri di diametro che alla fine vengono fissati e montanti d'angolo per ogni pilastro e viene fissato su una parte che può muoversi. Può muoversi perché ci sarà un martinetto messo all'interno che può fare, che può spostare leggermente e chiaramente il montante in altezza. Immaginate, sono quattro montanti, dunque si può non solamente alzare il pilastro, ma si può anche ruotarlo così. E poi, se c'è bisogno di alzare, si mette dopo dei spessori e poi dopo si chiudono i buloni che sono qui. Allora, funziona così. Questa è una sezione della base di un montante dove si vede la parte metallica. Dunque, c'è un martinetto di 800 tonnellate che viene operato con una pompa che funziona a 700 bar. Vedete come erano capaci di lavorare alla pressione all'epoca? E poi, dunque, si alza, si mette spessori e poi dopo si chiude sopra i buloni quando si arriva all'altezza. E così si può controllare l'altezza e la rotazione del pilastro in un medio completo. Allora, i due primi paneli sono costruiti a sbalzo e poi a partire del terzo pannello si sarà un supporto con un'impalcatura. e poi le trave saranno anche supportate. Dunque, qui avete un'idea dei ponteggi laterali. Questi sono 27 metri e hanno una fondazione di più di 10 metri. Questo è un disegno. Allora, tanti disegni dell'epoca sono fatti a partire di foto. Dunque, le foto sono un po' complicate da trovare, ma ogni tanto si trovano. Dunque, questo è un esempio. Questo vi dà un'idea. Dunque, lì si vede la costruzione di ogni pile. Poi hanno costruito un ponteggi. E poi, a partire di un certo momento, la struttura si appoggia anche sui ponteggi. Poi si vede la costruzione dei ponteggi della trave, che viene mostrato qui, che fa 40 metri di altezza. E qui vedete questa struttura lì, che permetterà di supportare gli archi. C'è un ultimo piccolo dettaglio sui ponteggi laterali. Questo delle scatole a sabbia. Quali sono queste scatole? È un elemento che può leggermente deformarsi, perché c'è un buco impito parzialmente di sabbia. E c'è un piccolo buco che permette di estrarre la sabbia. Dunque, questa è un'ultima regolazione dell'altezza e rotazione del piastro. Qui si vede una scatola, un zoom, una foto. Dunque, il collegamento è veramente stato un momento cruciale. Dunque, si fa in dicembre e gennaio dell'88. E lì hanno un po' maneggiato alla base per essere capaci di connettere queste trave. E poi la costruzione, a partire di quel momento, va avanti. Dunque, il 26 marzo, quasi il primo piano è quasi completato. E si va avanti nella costruzione. Dunque, vedete che in maggio dell'88 gli archi cominciano ad essere costruiti. Dunque gli archi non hanno un ruolo strutturale. Hanno un ruolo esclusivamente decorativo. e sono costruiti appesi dall'alto. Dunque, non sono costruiti dal basso per portare qualcosa. Sono costruiti dall'alto per diventare, diciamo, un elemento architettonico. Poi la torre va avanti. Dunque, a giugno, vedete che si comincia a collegare il secondo livello. Poi, a quell'epoca lì, hanno dovuto anche usare ancora un po' i pistoni, che sono i martinetti sotto i piedi, per anche fare piccoli aggiustamenti, per essere capaci di connettere i pannelli uno ad altro con le trave. e poi il 19 di luglio le cose vanno avanti. E si vede di nuovo, qui si vede gli archi ben in avanti e sono quasi finiti, direi, alla fine di luglio. E poi spariscono i supporti del primo piano. e poi quando va, dunque, abbiamo il 14 di luglio, come dicevo prima. E poi quando si va avanti, in agosto, spariscono anche i supporti delle pile laterali. A partire di quel momento lì, la torre va verso la cima. Qui c'è il momento di coniunzione di questi montanti non unico, che ha il pannello 17, e poi dopo si va su. E poi, nel frattempo, dunque, si comincia l'allestimento del primo piano, come vedete, per esempio, il 6 dicembre dell'80. Poi la torre cresce, 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 fino al 22 di marzo dove il campanile è quasi finito. Questo, qui vedete un dettaglio di queste campanile. E poi abbiamo l'illuminazione in cima, dunque, tramite dei proiettori elettrici, che si trovano più o meno sopra il livello dove i visitatori potranno andare. Qui si vede una foto di questo. E poi sopra c'è un faro che è visibile a più di 100 chilometri da Parigi. E dunque, come adesso, la torre si illumina. Qui si vede un disegno. E poi questa è una foto da quale il livello è stato tirato. Dunque, al momento dell'esposizione, le lampade erano a gas, i proiettori, i fari erano elettrici. E viene completamente elettrico a partire dell'89, del 90. Dobbiamo parlare un pochino di ascensori. Dunque, abbiamo visto che ci sono ascensori verso il primo piano, altri ascensori verso il secondo piano, e poi ascensori che vanno fino alla cima. I primi ascensori che vanno al primo piano sono ascensori a pistone articolati. Dunque dovete vederlo più come una gigantesca catena che può girare e portare la cabina verso il primo piano. Qui vedete un zoom su questa catena che può resistere un po' alla compressione. e qui è una foto di questi ascensori. Nessuno di questi ascensori esiste ancora. Sono quasi tutti, almeno per il primo e il secondo piano, ripiazzati già per l'esposizione universale del 90. Poi, per il secondo piano, abbiamo questi ascensori Otis. Otis è una ditta americana. È il primo ascensore che hanno mai costruito per poter andare a 114 metri. Dunque abbiamo ancora un marchinetto che si collega a una carrucola composta e secondo la posizione del pistone può tirare la cabina in alto e poi farla riscendere in basso. Pier, data l'ora possiamo lasciare spazio per qualche domanda eventualmente? Sì, sì, certo. C'è ancora da mostrarvi, ma posso fermarvi a qualsiasi momento. Bene, allora... Fate come voi, volete. Io faccio il stop sharing, se volete, perché possiamo continuare dopo, forse. Eventualmente, in funzione delle domande, facciamo così. Esatto, in funzione delle domande facciamo poi le nostre considerazioni. Ecco, ci sono domande? Non so se mi sentite perché ho dovuto fare l'aggiornamento. No, ti stiamo sentendo. Ok, semplicemente questo. La durevolezza dei materiali. Noi stiamo scoprendo ora che la limitatezza nella durata, nell'efficienza dei materiali cementizi si ascrive ormai a 90-99 anni. Si suppone ci sia un limite temporale alla robustezza nel tempo di questa torre in materiale metallico? È una curiosità. Noi non capisco nulla di queste cose, eh? No, no, sicuramente il ferro pudelato è un ferro che è fatto a strati, direi sì. Si può sgretolare abbastanza facilmente. È per questo che uno è stato, direi, costruito con delle caratteristiche migliori che quelle che sono usate per altre opere che si vedono nella natura adesso, che sono completamente distrutte. e poi è stato molto bene protetto da… direi… viene riprotetto ogni sei anni. Dunque ogni volta che lo rifanno viene tenuto sotto occhio. Dunque io ho letto dei articoli quest'anno che diceva che l'attore non era più capace di supportare il suo peso, eccetera, eccetera. Ma avete visto che il ferro pudelato della torre, direi, poteva supportare un peso, direi, delle forze più o meno sei volte più grande che quella di disegno. Dunque anche se si ammette che ha perso della sua resistenza, sicuramente ne ha ancora abbastanza per durare alcuni anni. non dico un millennio, ma qualche anno sicuramente ancora. Dunque la potete visitare tranquillamente. E noi stiamo pensando, infatti, di venire a Parigi l'anno prossimo. E grazie per la spiegazione. Questa è bellissima. Giuliana, hai qualche osservazione? Apri il microfono. Io mi ero già tutta informata, quindi su questo non ho nulla da dire. Indubbiamente è vero, la domanda sulla durabilità è molto importante. Però in effetti ormai è un monumento e quindi avrà la sua cura eccezionale nel corso degli anni. Poi soprattutto dopo l'evento di Notre Dame, credo che tutti i monumenti parigini verranno sottoposti ad un controllo veramente eccezionale. ed è giusto che sia così. Io devo fare i complimenti perché avevo visto delle immagini. Uno i complimenti è la ricostruzione storico e anche grafica e fotografica perché non pensavo a tutte queste immagini che sono state trovate da Pier e messe insieme in maniera così interessante. E poi quello che mi impressiona è che siamo a fine ottocento, cioè voglio dire, vedere queste cose... Eh Roberto, dicevo ieri, parliamo delle piramidi, parliamo, ma è una cosa impressionante, fatta col metallo. E poi noi dati, come i ribattini, come venivano usati... I rivetti, i rivetti. Per me è incredibile, Franca, è incredibile quello che ho visto costruire qui, ma poi le fondazioni. Come hanno fatto? Ho visto delle immagini bellissime. E quindi devo fare i complimenti a Pier per questa ricostruzione. Poi quando ti rivedrai domani, perché adesso poi ti faccio vedere il tuo filmato che stai vicino alla tua torre, e anche te Giuliana, ma specialmente Pier, vedrai quando la descrivi come sarà bello rivederti su questo tipo di discorso. Io... Prego, Pier. Io voglio dirvi una cosa che c'è stata una digitalizzazione assolutamente stupenda fatta di documenti. Dunque io avevo fatto una piccola esibizione sulla tour Eiffel un decine di anni fa, e lì avevo avuto difficoltà a trovare tanti documenti. Adesso c'è una montagna di documenti che sono stati digitalizzati, non solamente in Francia, ma in Swizzera e negli Stati Uniti, che sono di accesso completamente pubblico e sulla quale si può trovare delle digitalizzazioni e alta risoluzione. Dunque... Bene. Si può trovare quasi tutto sulla tour Eiffel. Allora useremo strumenti tipo chat GPT ed intelligenza artificiale per ricostruire i documenti di allora, facendo qualche domanda specifica, ma adesso ci serve il cervello umano. Allora, io volevo ringraziare Giuliana e Pier per questo incontro. Al più presto manderò la registrazione, così vedete anche tutte le parti che possono essere di interesse generale. ma grazie veramente tanto per questo tipo di... non pensavo fosse questo il tipo di conferenza, ma ho capito che è qualcosa di veramente diverso. A tratti ci vuole capacità di comprendere, perché non è... però sei stato bravo a dire guardate che in questo punto qui è stato fatto questo, guardate che in questo punto qui e facevi i disegni con l'evidenza e così via. Grazie Pier, grazie Giuliana. Io allora a questo punto interrompo la trasmissione e vi saluto con piacere. Vi saluto anche Antonio che è uscito un secondo, che aveva un problema. Dimmi Roberto, hai un... No, no, è tutto a posto, salutavo. Tutto a posto, salutare. Grazie, grazie. Ciao, ciao a tutti. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie, buonasera. Ciao, ciao Bianca. Ciao, ciao. Ciao, ciao.